Non è ancora prevista una scorta per il sindaco Consales, ma è stata nel frattempo applicata la misura della vigilanza generica radiocollegata in attesa degli sviluppi investigativi per assumere ogni altro genere di iniziativa. Nel vertice si è parlato anche della recrudescenza di atti criminali che da settimane segna l'intera provincia, acuita negli ultimi giorni dall'efferato omicidio di Piazza Raffaello, Arione e Sant'Elia e dall'escalation di Rapine. A tal proposito non è previsto l'invio di nuove unità al supporto delle forze dell'ordine, visti anche i tagli al settore della sicurezza previsti dalla legge di stabilità. Anche Consales ha partecipato alla riunione a cui hanno preso parte i vertici delle forze dell'ordine. Il primo cittadino ha riferito di aver nuovamente comunicato ai presenti le informazioni in suo possesso. Oltre ai fatti che hanno riguardato direttamente il primo cittadino, si è discusso più in generale dell'emergenza criminalità a Brindisi, città in cui nelle ultime settimane vi sono state diverse rapine e non dimentichiamo la sparatoria al giorno di ogni istante, nel corso della quale è stata uccisa una persona e ne è rimasta ferita un'altra. Ma si è discusso anche di problematiche riguardanti l'operato, delle società partecipate e delle aziende che espletano dei servizi pubblici per conto dell'amministrazione comunale. In questo contesto si innessa una violenta aggressione subita circa un mese fa da un dirigente della ditta che gestisce la manutenzione degli impianti sportivi comunali, nei confronti della quale il 21 ottobre scorso lo stesso sindaco ha avviato la procedura di rescissione contrattuale. E poche settimane prima dell'aggressione il comune aveva rigettato una richiesta di estensione del capitolato d'appalto per un ammontare di circa 480 mila euro presentata dall'azienda appaltatrice.